L'amore è incondizionato per un territorio che si esprime non solo con una storica attività alberghiera, ma anche con un'attenzione particolare allo sport, alla scuola sci, alle famiglie in particolare. Si può riassumere così la filosofia della famiglia Mucilli, che ha inaugurato una nuova spa all'interno dell'hotel Miletto, in quella campitello matese che è nel cuore di ogni membro di questa realtà familiare. Come Carlo, giovane manager che ha la stessa età della struttura, profondamente rinnovata, che dopo un anno di lavori vuole essere testimonianza di un molise che accoglie e attento alle nuove tendenze richieste in fatto di turismo. Questo progetto è nato dall'amore che la nostra famiglia ha per questo territorio e il coronamento di un sogno. Durato un anno, oggi si conclude con quest'ultimo step e ce l'abbiamo fatta. Il cuore ha retto e ce l'abbiamo fatta. Il cuore del rinnovamento è la nuova spa con servizi, massaggi e trattamenti, dal bagno turco alle docce emozionali, dalla sauna all'idromassaggio. Questa era una struttura che era stata costruita con la mia nascita nel 1992. Abbiamo rinnovato in primis tutta la zona notte, quindi tutte le camere, creando delle suite con vasco idromassaggio, delle camere più piccoline, delle camere familiari. E poi, infine, con l'inaugurazione di oggi c'è la spa, che è praticamente il fiore all'occhiello che conclude questo progetto. È aperta sia ai clienti dell'albergo, sia ai condomini di Campitello Matese e sia a chiunque volesse accedervi. L'amore per il territorio passa con orgoglio anche attraverso la tavola. Accanto a linee essenziali di design, la tradizione della pasta fatta a mano o del casaro, che dal latte locale realizza le mozzarella, le emozioni del territorio proposte dal vivo, quindi. Abbiamo rinnovato il nostro ristorante, inserendo molti brand molisani, ci tengo a dirlo perché stiamo anche costruendo un progetto legato molto al territorio.